Ancora una volta abbiamo trovato un bufalino sulla spiaggia di Pestum, in stato di decomposizione sulla stessa spiaggia dove abbiamo già trovato diversi bufalini morti nel corso degli ultimi due anni. La denuncia arriva dagli attivisti e attiviste di Salerno Animal Save di Salerno. Anche se ci troviamo di fronte ad un atto illegale, il bufalino non è stato portato al mattatoio ma gettato nel fiume probabilmente per ridurre i costi di abbattimento. Questa è la chiara dimostrazione delle continue tragedie, abusi e uccisioni che avvengono all'interno degli allevamenti di bufale per produrre la rinomata mozzarella di bufala campana. I bufalini maschi sono uno scarto, un costo, non sono merce da sfruttare per guadagni economici, quindi vengono uccisi o fatti morire di fame e gettati come spazzatura. Oltre alle uccisioni e alla riduzione ad oggetti di essere viventi, senzienti, queste produzioni sono altamente inquinanti, sia nella gestione legale dell'attività sia come in questo caso di deturpazione delle aree naturali. Gli attivisti di Salerno Animal Save, Climate Save, di fronte a queste immagini chiedono l'urgente necessità di convertire gli allevamenti di bufale in attività produttive, etiche e sostenibili.